Fermarsi dopo una vittoria non è mai piacevole, soprattutto se si tratta di un 4-1 robusto, secco, come quello inflitto domenica scorsa, dalla Vigor Trani all'Ortanova. Due gol per tempo bastano i tranesi per chiudere la contesa, ma per mister Angelo Sisto ci sono ancora ampi margini di crescita. Una squadra giovane deve viaggiare sugli ali dell'entusiasmo, quindi dopo una vittoria dare continuità sarebbe stato meglio. Però forse così abbiamo la possibilità di sistemare ancora meglio delle fasi che ancora vanno riviste. Il prossimo turno, il quarto del girone A di eccellenza, vedrà la Vigor Trani a riposo forzato a causa di un raggruppamento formato da 13 squadre. C'è grande attesa tra gli addetti ai lavori per le comunicazioni della FIGC sui criteri per promozioni ed eventuali play-off. È un problema che ci siamo un po' tutti posti quando c'è stata la notizia dei due gironi. Chiaro che si rischia a dicembre già nei gironi di avere i giochi fatti, quindi se non ci sono play-off e play-out potrebbe il campionato perdere di interesse. E perdendo l'interesse chiaramente verrebbero a mancare quei presupposti che finora hanno portato a svolgere il campionato fino alla fine in modo corretto. Quindi speriamo che la formula che venga fuori in questa settimana dia la possibilità a tutti di avere degli obiettivi finali. Altro tema caldo è il capitolo stadio. Le frizioni con l'amministrazione comunale, connesse anche alla riduzione di entrate nelle casse dei club a causa dell'emergenza Covid, hanno spinto la Vigor a giocare le partite interne al Sampio di Bari. Dopo la scomparsa della United Sly, durata meno di un'estate, nessuna società di eccellenza gioca le sue gare casalinghe a Trani. Il Presidente ha sistemato tutte le situazioni economiche che erano in sospeso con Trani, quindi con tutta l'intenzione di rientrare. Prui la situazione di non poter avere gente allo stadio ha fatto sì che il Presidente chiedesse all'amministrazione comunale di avere un riscontro economico un po' più basso perché i costi sono molto alti. credo che al momento il Comune non abbia dato ancora risposta.